C'è proprio lui, mi ha detto che c'è stato un trattore che ti copica con un altro e poi il tentatore ha schiacciato nell'altro. Allora, la serata che faccio stasera è una serie di pezzi che io insieme a Tario Malnari che saluto abbiamo scritto insieme, alcuni trattano i suoi libri fuori da dentro e scambio e alcuni scritti proprio a quattro anni. Il primo pezzi è il titolo America. Il primo pezzi è il titolo America. Il primo pezzi è il titolo America. Per la libertà che mai esisterà Quanto è la tua terra, sta trascoltando Per accia che tu sia la sua Ma le madriere indirizzo Domani, sabato, domani, marta, no? Sabato, domani, marta, no? Sì, vedi, 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 sabato, no? Al volto in aglio del saggio indiano Troppo corto di te, io lo fermano Per il capo che mi sia connesso Sarà un vero fesso Quei dolore al trullo di riso In un continente Eccetto la loro gloria Non valeva niente Quei dolore al trullo di riso In un continente Eccetto la loro gloria Eccetto la loro gloria Eccetto la loro gloria Eccetto la loro gloria Per il ritmo che posso sentire Se dire L'imperi speciale di condizione Sente la prossima diate Giù di finazione Lo so 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 Si trovò Lui Si trovò Ad ammazzare Tagliandosi Tagliandosi La terri della forza Il terri di fumorato Guarda i tuoi Non c'è La terri della forza E' una spessiva Un'esercizio 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 e tu è pure il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, non potrei pensare e tu è nulla, non giustizia da di natale, ma il cuore è un anno che dà più fissata e tu è di un sacco italiano, non potrei andare a vendere, ma ti permetterai e tu è quello che non riparai, ma non sarà un vero stesso Grazie a tutti. 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 Yeah. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti.